siamo pronti per cominciare questa avventura nel nostro portafoglio assieme spero di sì ciao a tutti ragazzi sono pasquale e questo è risparmio il mio progetto di indipendenza finanziaria io sono il vostro investitore risparmiatore della porta accanto oggi come promesso andiamo a fare la prima i primi ingressi o perlomeno andiamo a fare le prime presentazioni delle aziende che vorremmo che vorrei inserire nel mio portafoglio azionario in comune a voi faremo questo portafoglio assieme come ho spiegato l'ultima volta e partiremo facendo alcuni step oggi cominciamo dalle mega cap poi magari vi farò vedere anche più avanti tutto lo split delle varie aziende che vogliamo andare inserire mega capi di siri e così via però in questo momento andiamo a scegliere mega cap come operanti preannunciato ve ne presento dieci e voi ne dovete scegliere tre per cui avremo tre aziende mega cap quattro aziende tra rizze bdc due aziende del dow jones industrial average tre aziende del nasdaq 3 small cap 3 europee 140 mila euro investiti in demo tra itoro e xtb magari lo faccio su tutte e due perché xtb ha lanciato le azioni reali e per cui magari possiamo vedere quale delle due soluzioni quella più indicata al nostro progetto bene prima iniziare ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo di lasciare un bel pollice su che questo sì che è un bel investimento andiamo subito a parlare del portafoglio del mega cap e scegliamolo 3 allora ho scelto aziende tra queste 10 perché ce ne sono più di 10 ovviamente di mega cap che io avrei terrei ottengo nel mio portafoglio questo perché ovviamente pur essendo un portafoglio comune vorrei che rispecchiasse non solo la strategia di chi mi segue ma anche un po la mia strategia per cui ho cercato di fare un mix importante ho preferito non usare solo titoli tech perché noi andremo anche a scegliere titoli del nasdaq e questo ovviamente ci andrà ci darà la possibilità di riprendere alcuni titoli che sono stati scartati fra le mega cap e di poterli inserire sotto la voce nasdaq ho selezionato da aziende con market cap superiore a 200 miliardi di dollari per cui sono mega ma non non sono le prime tre o quattro insomma quelle che sanno sto per il trilione di dollari youtube permette solo sondaggi con un massimo di cinque scelte per cui dovrò lanciare per forza due sondaggi e poi farò diciamo sceglierò le tre che hanno ricevuto più voti fra i due sondaggi se conoscete altri metodi per fare sondaggi fatemelo sapere perché magari potremmo trovare un modo migliore magari riesco a mettere tutte e dieci in un unico sondaggio e prendiamo le prime tre ovviamente come ho appena detto le tre con più voti andando al portafoglio la prima che non poteva mancare alla nostra berkshire headway una market cap di 644 miliardi di dollari è un holding congomerato per chi non lo sapesse berkshire è fortemente diversificata una marea di aziende di cui è proprietà al 100 per cento alcune la maggior parte sono private company per cui sono di proprietà della berkshire che le detiene al 100 per cento altre le detiene in parte stata fondata nel 1965 dal famoso warren buffett e charlie munger che sono due persone ancora vive che tengono le redini dell'azienda una nota di merito di questa azienda che fa parte è stata fa parte della fortune 500 ed è il nobile 18 era al terzo posto a quasi 390 mila dipendenti e ha dato un reddito meglio anno del 20 per cento la seconda azienda che andiamo di cui andiamo a parlare disney anche questa chi non la conosce 314 miliardi di dollari si occupa di intrattenimento e media è stata fondata nel 1923 note di merito steve jobs prima che morisse possedeva il 2 per cento di queste azioni e tra l'altro qualsiasi cosa da tenere in considerazione anche warren buffett aveva una cospicua parte la ridotta però ne ha un bel po ancora persone più grave sono bob higer che si o i dipendenti sono attualmente 195 mila e ha dato un rendimento anno medio del 14 per cento ovviamente io dico la market cap ma come ho detto prima sono tutte sopra i 200 miliardi di dollari dovreste conoscerle tutte alfabet è un trilione 812 miliardi di dollari di market cap anche questo è un conglomerato perché a differenza di quello che molti pensano non c'è solo google ci sono una marea di attività che alfabet ha ed è per questo che l'azienda è stata cambiata da google ad alfabet in borsa è stata fondata nel 2015 come alfabet mentre dal 1998 era quotata come google note di merito ha praticamente assenza completa di debiti non ne ha sondarpicci hai un grandissimo ceo questa è una delle aziende che ho già nel mio portafoglio reale perché questo amministratore delegato ne sa e io investo in questa azienda proprio per questo motivo è veramente una macchina da guerra dipendenti 135 mila con un rendimento medio anno del 22 per cento jp morgan chase and co market cap 457 miliardi di dollari settore finanziario ovviamente anche voi conoscete la jp morgan hanno fondazione nel 2000 come jp morgan in chase perché è stata unificata non sono stati unificati diverse attività ma diciamo l'azienda originaria del bank of manhattan creata nel 1799 per cui ha una storia lunghissima fa parte delle big fori e 6 le big forza e per le quattro banche più grande più più grandi più importanti degli stati uniti america persone chiave sono jamie diamond dipendenti 167 mila con un rendimento medio anno dell'11 per cento mastercard anche questa conosciutissima market cap 457 miliardi di dollari settore finanziario appunto chi non conosce mastercard stata fondata nel 1966 notte di merito che è un'organizzazione di proprietà di 25 mila istituti per cui non è a capo di un'unica diciamo persona ma ci sono tantissime tantissimi istituti che la prof la posseguono e la dirigono questo a un certo punto di vista ci dà anche una maggiore diversificazione di quello che sono il potere decisionale delle cose le persone chiave abbiamo al pal singh banga che appunto essi o dipendenti 5.600 è andato un rendimento anno medio del 29 per cento a sml anche questa un'azienda quotata all'naise mai olandese 319 miliardi di us dollar si occupa di semiconduttori cosa che in questo momento mancano è stata fondata nel 1984 le persone chiave in questo caso è peter benic al 27.800 dipendenti e a un rendimento medio anno nel mercato azionario del 26 per cento johnson and johnson anche questa azienda che io amo fortemente market cap 459 miliardi di dollari si occupa di health care consumer per cui non fa solo il vaccino come molti magari potrebbero conoscerlo in questo momento ma come molti sanno produce anche una serie di prodotti per la cura della persona per la salute e per tutto quello che può essere diciamo il consumer care è stata fondata nel 1886 è una delle usi dividend aristocrats le persone chiave alex gorsky dipendenti 132 mila è un dato un rendimento medio anno del 14 per cento come vedete sto diversificando tantissimo fra i vari settori proprio perché deve essere un portafoglio a lunghissimo periodo e bisogna andare appoggiare delle solide basi su quale costruirlo microsoft la mia secco il mio primo amore se così si può dire anche questa è una delle due le uniche due google e microsoft che possegono in portafoglio due in trilioni e 158 miliardi di dollari settore tech è stata fondata nel 1975 una nota di merito è la quota di cash disponibile in cassa il doppio di quelli che sono i debiti attuali persone chiave satia nadella anche lui una persona che secondo me ne sa quanto non si sa quante ne sa perché è un trevo in corsa anche lui dipendenti 156 mila è un rendimento medio anno del 26 per cento ovviamente microsoft è un tech ma è molto diversificata sul tech non ha solo il sistema operativo come sappiamo si è lanciata su tantissime cose come azur a office insomma è un'azienda molto ma molto forte anche le console dei videogiochi insomma un'azienda grandiosa united health group 398 miliardi di dollari è un diversified health care è stata fondata nel 1977 al momento è al quinto posto della fortune 500 americana persone chiave abbiamo stephen j hensley ea 330 mila dipendenti con un rendimento medio anno del 24 per cento come si vede non è solo il tech che rende tantissimo ma altre aziende ad esempio come quelle dell'health care o berkshire hathaway che è un glomerato danno rendimenti importanti nel lungo periodo questa è una cosa da dare in considerazione perché è vero che il tech crescerà molto probabilmente nel tempo tantissimo ma bisogna essere in grado anche di andare a appoggiare delle solide fondamenta per andare a gestire un portafoglio che duri e perduri nel tempo walmart anche questa azienda che adoro anche questa ce l'avevo un portafoglio 3212 l'aria inserirò anche su widiba dove sto ricreando il portafoglio 403 miliardi di dollari di market cap retail e wholesale per cui una marea di negozi si sta anche lei orientando molto sull'online per cui sta cercando di fare negli stati d'america una buona concorrenza sull'online ad amazon hanno rifondazione nel 1962 una nota di merito che la famiglia walmart chi ha creato l'azienda ha ancora quasi 51 per cento delle azioni in realtà sono il 50.8 per cento se non vado errato persone chiave abbiamo greg penner come ceo a 2.2 milioni di dipendenti perché non è presente solo negli stati aziende di oggi quelle fra cui dovreste scegliere voi quali sono le tre megacup da inserire nel portafoglio che andiamo a creare insieme spero di aver dato una giusta diversificazione alle aziende che ho proposto spero che anche voi dal vostro lato non mi andate solo a focalizzare sulle aziende che hanno il nome molto importante soprattutto nel tech ma che andiate a fare una una serie di valutazioni guardando a lunghissimo termine pensate di creare questo portafoglio come se dovesse tenerlo per 30 anni magari fino alla vostra pensione cercate di crearlo in questo modo perché oltre a questo ci andiamo anche divertire tantissimo creandolo ovviamente queste aziende megacup mega conosciute quando andiamo poi a valutare altre aziende in altri settori che magari sono un po meno conosciuti come ad esempio Russell 2000 o anche BDC e i REITS magari andiamo a fare delle valutazioni diverse però insomma volevo sapere la vostra mi raccomando a breve subito dopo uscite questo video lancerò i sondaggi se prima sapete se ci sono altre possibilità di creare un sondaggio con 10 scelte fatemelo sapere commenti qui sotto così lo facciamo lì bene ragazzi pollice in su iscrivetevi al canale cliccate la campanella e ci vediamo al prossimo video ciao